A Sanza Francesco De Mieri è di nuovo in corso per la carica di sindaco. Il primo cittadino uscente aveva deciso di non riproporsi agli elettori pur essendo al primo mandato, ma in queste ore, stimolato dai suoi sostenitori, ha deciso di ricandidarsi per la fascia tricolore. A fargli cambiare idea il rischio, secondo le sue previsioni, che il comune finisca nuovamente in mano a personaggi politici che, a detta di De Mieri, non guardano seriamente agli interessi della collettività. Nei cinque anni del nostro mandato, dice, ci siamo occupati della cosa pubblica in maniera trasparente ed onesta. Mi ricandido perché per una parte della popolazione la maggioranza che rappresento ha lavorato bene e non vuole che il patrimonio che abbiamo costruito con sacrificio finisca in mano ad altri. A Sanza l'unica lista alternativa già ufficiale è quella che vede candidato a sindaco il consigliere di minoranza uscente Vittorio Esposito. Cinque anni fa la sfida fu tra De Mieri e Antonio Peluso, con cui era candidato Esposito. Questa volta Peluso non parteciperà alla corsa, ma sosterrà la lista del collega dell'opposizione. Anche a Buonabitacolo si prevedono due liste capeggiate rispettivamente da Elia Garone e Giancarlo Guercio. A Sant'Arsenio, per il momento, certa solo la discesa in campo di Donato Pica.